Sarà con ogni probabilità il metrobus la scelta verso la quale si orienterà la giunta provinciale per risolvere il problema del traffico tra Caldaro e Bolzano. Giunta che ha incaricato l'assessore ai lavori pubblici Florian Mussner di presentare nel più breve tempo possibile un progetto relativo a questo tratto. Dovranno essere indicate le strade già adeguate, quelle da ampliare, i vari interventi necessari. Il terreno secondo me attualmente non è finanziabile perché costerebbe, così mi dicono, circa 300 milioni e non avremo mai attualmente 300 milioni né da soli né insieme con i comuni e poi non sarebbe la soluzione giusta perché dovrebbero essere espropriati i terreni e poi anche le costruzioni eccetera. Adesso hanno fatto dei sopralluoghi, hanno visto che in altre zone d'Europa funzionano questi metrobus e perciò dico di fare eventualmente uno studio affinché questi metrobus possano essere realizzati. Secondo me occorrerebbe una terza corsia e poi semafori intelligenti, cioè che questi metrobus abbiano la preferenza, la precedenza e io dico, diciamo, questo sarebbe finanziabile perché costerebbe forse neanche un terzo, almeno molto molto meno. Perciò oggi abbiamo dato l'incarico di fare un sopralluogo per vedere un po' dove attualmente avremo già la larghezza della strada per una terza, per una propria corsia e poi eventualmente potremmo poi valutare i terreni da espropriare, materiali da acquistare e così eventualmente potremmo fare a mezzo, cioè a breve o a mezzo termine, un nuovo sistema di trasporto. Via Libera della Giunta Provinciale, il programma 2012 per l'innovazione. I fondi destinati a questo settore superano di 7 milioni di euro quelli messi a disposizione l'anno scorso. L'innovazione e la ricerca è sempre un investimento per i nostri giovani, per il nostro futuro. Oggi abbiamo approvato un programma di 32 milioni, in parte per ricerca, innovazioni, eccetera, progetti che vengono accompagnati da parte degli uffici, poi progetti che vengono attuati presso le varie aziende private, poi ancora per la consulenza e poi anche per nuove funzioni le forme di collaborazione con altre imprese, eccetera, clastre via di seguito. Io credo che questa è veramente una cosa dove noi dobbiamo andare avanti perché siamo un po' indietro. La Giunta Provinciale ha messo a disposizione 88 milioni di euro a favore delle aziende altotesine che potranno avere accesso a crediti agevolati attraverso il fondo di rotazione. I nuovi mezzi finanziari permettono di accogliere tutte le richieste ancora in attesa.